Buongiorno a tutti dalla redazione di Biella in apertura all'economia, un'importante notizia economica che riguarda il nostro territorio. Sulla delicata partita della vendita di Biver Banca, la banca di Biella e Vercelli, vincono le fondazioni, infatti le quote di Banca Italia rimangono all'istituto biellese. Il gruppo, il Colosso di Siena, Monte dei Paschi ha deciso infatti di lasciarle. Tutti i particolari comunque nel prossimo servizio. Il tesoretto Banca Italia resterà la Biver Banca. Le fondazioni Cassa degli Sparmi di Biella e Cassa degli Sparmi di Vercelli hanno incassato l'ok di Monte Paschi di Siena e lasciano Biver Banca le quote in Banca Italia. Ora la Cassa degli Sparmi di Asti può entrare in possesso del 60% di Biver raggiungendo i 200 milioni dell'offerta originale e il controvalore di 100 milioni. Il Consiglio di Amministrazione di Banca Cassa degli Sparmi di Asti ha accettato la proposta di modifica e integrazione al contratto di compravendita stipulato tra la Banca di Asti e il Banca Monte Paschi di Siena lo scorso 26 giugno. In pratica le banche hanno quindi stipulato un addendum al contratto che sostanzialmente prevede la rinuncia da parte di Banca Monte Paschi di Siena a procedere con la scissione originariamente convenuta dalla partecipazione detenuta da Biver Banca in Banca Italia a fronte di un'integrazione del prezzo di compravendita. La Banca di Asti si legge in un comunicato stampa accettato di rinunciare a termini temporali che erano stati originariamente previsti in merito a detta operazione. È prevista anche l'eventualità che l'integrazione del prezzo possa essere sostituita dal trasferimento di quote di Banca Italia al verificarsi alla data del terzo anniversario. Fermo restando il diritto di prelazione statuario dei soci di Biver Banca per effetto delle rinunce. Il contratto è quindi divenuto efficace anche in assenza di altri atti di soggetti terzi fatte comunque salve le prescritte autorizzazioni delle competenti autorità. Sono ancora in corso le ricerche di Enrico Molino di 87 anni di cui da giovedì non si hanno più notizie. L'uomo era andato a funghi, a Trivero in frazione Stavello non ha fatto più ritorno a casa. Ed ora parliamo di politica. A Biella andrà il Consiglio provinciale mentre a Vercelli il capoluogo e la prefettura. Questo è stato deciso ieri durante l'incontro tra i sindaci dei due capoluoghi in vista proprio del riordino delle province. All'incontro non sono presenti anche esponenti locali di PDL e PD. Ma sentiamo tutti i particolari nel prossimo servizio. Come anticipato dai nostri notiziari di ieri, Biella e Vercelli hanno trovato l'accordo per accorparsi. Il sindaco di Biella, Dino Gentile, ha incontrato il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro insieme ai rappresentanti politici del territorio per cercare di radare un documento unico da sottoporre al CAL, il Comitato Autonomie Locali. La lina uscita dal tavolo sarebbe quella di dare a Vercelli prefettura e capoluogo mentre a Biella rimarrebbe la sede della provincia. Intanto domani, mercoledì 3 ottobre, il CAL, Consiglio delle Autonomie Locali, darà un'indicazione di massima sul riordino delle province piemontesi. Per quanto riguarda la provincia billese, due sono le ipotesi sul tavolo. Unirsi con Vercelli oppure scegliere il quadrante del Piemonte orientale, Biella-Vercelli-Novara-Verbano-Cusossola, proposta quindi caldeggiata dalla Lega Nord. L'indicazione dovrà poi passare al vaglio del Consiglio regionale e dopo a quello del governo. Nel biellese la maggior parte dei comuni, in primis quello di Biella, opta per Vercelli e con esso anche il Consiglio provinciale, nonostante il Presidente sia leghista. Cossato invece ha scelto il quadrante. Ed ora parliamo di ambienti. Il progetto per costruire la diga in Val Sessera ha ottenuto il via libera da parte del Ministero. I contrari all'opera però promettono battaglia. Primo, fra tutti il Consigliere regionale del Partito Democratico, Vilmer Ronzani. Il Ministero ha dato l'ok all'ampliamento della Liga sul Sessera. Roma ha infatti approvato il via alla valutazione di impatto ambientale al progetto. Al decreto ora manca la firma del Ministero dell'Ambiente. Molti sono però contrari alla realizzazione dell'opera. Primo fra tutti, Vilmer Ronzani, consigliere regionale del Partito Democratico. Si tratta di un'opera devastante per la Val Sessera. Basta leggere il progetto per rendersi conto dell'impatto che non solo l'invaso ma anche i lavori per la sua realizzazione avranno in valle. Non rendersene conto ed è irresponsabile, cosa tanto più grave se si considera che si tratta di un progetto che non avrà alcuna utilità per il biellese. Sul fatto che la Commissione via avrebbe finito, seppur con qualche prescrizione, continuo a Ronzani, con esprimere un favore favorevole, non avevo dubbi. Poco importa se le prescrizioni e una serie di interventi che tra l'altro non possono essere spacciati per compensazioni ambientali, comporteranno un ulteriore vergognoso aumento dei costi, tanto paga pantalone. Di più, conclude il Democratico, più costerà l'opera e tanto maggiore sarà l'agio per il consorso di bonifica della baraggia biellese e vercellese. Parliamo ora di economia, di nuovo, classi dirigenti, sistemi di rappresentanza, il biellese del 2030. Questo è il titolo del convegno che si è svolto a Biella nella sede di Feder, Manager, ma a tutti i particolari ce li racconta l'inviato Beppe Carelli. È stato presentato presso la sede di Feder Manager a Biella il convegno Tavola Rotonda dal titolo Classi Dirigenti, Sistemi di Rappresentanza e Futuro del Territorio, il biellese al 2030. In programma martedì 16 ottobre, presso l'auditorium dell'Università Aziendale del gruppo Banca Sella. Feder Manager a Biella ha inteso organizzare questo convegno di martedì 16 ottobre per presentare per la prima volta fuori Roma, cioè in una sede territoriale di Feder Manager, il sesto rapporto su creare classi dirigenti che in prima battuta è stato presentato a Roma in aprile nella sala della lupa della Camera dei Deputati. Il sesto rapporto si occupa principalmente delle organizzazioni di rappresentanza e del loro ruolo nel creare le classi dirigenti che dovranno occuparsi soprattutto del domani. Un domani che è molto incerto e per il quale è più che mai necessario provvedere ad aumentare la competitività che abbiamo perso ormai da parecchi anni. Abbiamo pensato di organizzare questo appuntamento per parlare del bielese del futuro. Abbiamo coinvolto una serie di personaggi in rappresentanza delle varie associazioni, istituzioni locali per raccogliere il loro contributo di idee intorno a un tavolo di discussione che vorremmo non si esaurisse nel momento del convegno ma continuasse anche dopo. La nostra idea è che vengano costituiti dei laboratori di ricerca sugli aspetti socio-economici del nostro territorio che facciano emergere i fabbisogni da un lato, i problemi se ci sono, ma anche le soluzioni, col contributo di tutti e senza fare un discorso calato dall'alto ma che nasca dal basso col contributo di tutti. Ora parliamo nuovamente di politica dalla due giorni a Torino dell'Ingotto dove sono andati in scena gli stati generali del Nord. Ecco vedete le immagini della manifestazione se tenuta nel capoluogo piemontese. Sono emerse proposte serie concrete e realizzabili di cui Lega Nord ne fa il proprio manifesto programmatico. 12 punti si legge in un comunicato stampa attesi alla salvaguardia della dignità del Nord, delle sue imprese e dei suoi cittadini che delineano iniziative politiche, economiche e industriali utili ed indispensabili per portare fuori dalla crisi i nostri territori. Istituire l'Euro Regione del Nord, innanzitutto eliminare i sussidi alle imprese senza futuro per incentivare l'innovazione, le esportazioni e la ricerca. Ed ora oggi un grande appuntamento per tutti i nonni, infatti è la loro festa. Vediamo i particolari nel servizio curato da Elena Lovero. Oggi è una giornata molto particolare per i nonni, infatti è la loro festa. Nel nostro paese è stato introdotto ufficialmente con una legge nel luglio del 2005 e si festeggia il 2 ottobre, giorno in cui la Chiesa Cattolica celebra gli angeli custodi. In effetti, soprattutto in questo delicato momento storico, i nonni rappresentano veramente gli angeli custodi della famiglia. La loro presenza è sempre più importante all'interno delle famiglie dal punto di vista educativo e non solo. Infatti, se non fosse per i nonni, molti genitori non potrebbero recarsi al lavoro, sia per la scarsità, sia per gli alti costi degli asili nido. Cosa regalare ai nonni per la loro festa? La tradizione, nata negli Stati Uniti nel 1978, prevede come dono il non di scordare di me, fiore dagli importanti simbolismi di memoria. Però i nonni sono speciali e più che un fiore, in regalo preferiranno un abbraccio o un bacio dai propri nipotini. E allora, qual è il ruolo dei nonni nelle famiglie billese? I nonni della nostra provincia festeggeranno questo appuntamento, l'inchiesta realizzata sempre dalla nostra Elena Lovero, per scoprire un po' qual è il polso della situazione. Oggi è la festa dei nonni. Festeggerete con i vostri nipotini? Ma oggi siamo senza nipotini, è proprio perché è rimasta a casa la mia nuora. Pertanto, comunque, ci telefoneranno, ci diranno qualcosa loro. E spero, là. Nella società di oggi, qual è il ruolo dei nonni? Ah beh, il ruolo del nonno è importantissimo, perché purtroppo i giovani devono lavorare anche se c'è un po' di crisi. E senza i nonni si troverebbero in difficoltà. Perlomeno, io la penso così. Quindi molto spesso voi fate i nonni a tempo pieno? Sì, a tempo pieno. Ci portano i bambini presto, verso le sette, perché poi loro vanno a lavorare e poi noi li portiamo chi è all'asilo, all'altro a scuola. E alla sera vengono poi a prenderli. E il nonno è più permissivo con il nipotino? Sicuramente sì. Loro dicono che noi diamo i vizi ai nipotini, anche se non è vero, ma è logico che il nonno fa il ruolo del nonno e i genitori devono dare un'educazione più incisiva rispetto ai nonni. Festeggerete la festa dei nonni con i vostri nipotini? Purtroppo no. Purtroppo no, perché è lontano, vive all'estero ed è lontano. E quindi lo vediamo ogni tanto via Skype. Quindi voi avete comunque anche, grazie alla tecnologia, nonostante il sede lontano, voi avete un rapporto con il vostro nipotino. Grazie a Skype. Grazie a Dio. Sì, sì. Con lui il figlio e la moglie. Ha un nipotino molto piccolo, però il nonno è più permissivo con il nipotino? Normale, non è che abbia cambiato tanto da prima. Certo, ne abbiamo cinque sicuramente. Adesso sono a scuola, quando escono poi da scuola ci ritroviamo. Volevo solo fare un'altra domanda. Qual è il ruolo dei nonni nella nostra società? Il ruolo dei nonni, non dico che sostituiscono i genitori, ma quasi, hanno la loro importanza. Se i figli hanno bisogno di un appoggio, ce l'hanno in tutti i sensi, perché un nipote, secondo me, si tratta meglio che un figlio, secondo me. Diciamo che il nonno è sempre più permissivo del genito? No, permissivo dipende. Lì dipende dall'educazione che si è ricevuti a nostra volta, diciamo. Quindi la permissione sì, però fino a un certo punto. Essere permissivi va bene, accontentarli va bene, ma tutto ha un limite, secondo me. Penso di sì. Non lo sappiamo, adesso che lo so. Lei festeggerà con i suoi nipotini? Non mi ricordavo. Non festeggio, perché la vado sempre a prendere di mercoledì. La bambina va da scuola a prendere di mercoledì. Oggi il ruolo del nonno è sempre più importante. Lei che ruolo ha nella vita della sua nipotina? Ma è il ruolo mio, perché le voglio tanto bene, ma è il mio amore. Non posso dire altro, è il mio amore. Siamo qui con una futura nonna. Come sta vivendo l'attesa? Eh oddio, giorno per giorno che passa, diventa comunque sempre più accesa l'attesa. Speriamo vada tutto bene, che arrivi presto alla fine di novembre, visto che il termine è dal 26 al 28, nascerà una bimba, si chiamerà Arianna. Sono emozionata. E quali sono i propositi da futura nonna? Oddio, che me la diono da guardare qualche volta, non solo a me, ma anche a suo padre, perché comunque il nonno non vede l'ora di diventare nonno. Ho già festeggiato con il mio nipotino stamattina. E al giorno d'oggi, che ruolo ha il nonno nella vita dei nipotini? Ha il ruolo che se non c'è il nonno, la figlia o il figlio non può andare a lavorare. Quindi è sempre un ruolo più importante, più presente nella vita dei bambini? Molto, ma molto, ma molto più importante. Quindi lei vive una seconda giovinezza? Certo, certo. Non so perché ci dice che si vuole più bene ai nipoti che ai figli. Bene, dopo questa interessante inchiesta realizzata da Elena Louvero, continuiamo a parlare in qualche modo di giovani, di studenti. Da giovedì scorso, infatti è iniziato l'Istituto Bona di Biella, il progetto Buona Sapersi per indirizzare gli studenti a un uso responsabile della rete. La Polizia delle Comunicazioni, in collaborazione con Google, arriva nelle scuole di tutta Italia con il progetto Buona Sapersi, per tenere dei corsi di navigazione sicura e invitare gli studenti ad un uso responsabile di Internet e delle nuove tecnologie. Le lezioni sono cominciate anche a Biella, il 27 settembre, presso l'Istituto Buona ed avranno cadenza mensile per tutta la durata dell'anno scolastico e si svolgeranno in 100 scuole di 100 province italiane in contemporanea. I prossimi appuntamenti di quest'anno verranno stabiliti in accordo con il provveditore agli studi di Biella, Pier Giorgio Giannone e saranno aperti a tutti i ragazzi e adulti che si troveranno nelle scuole selezionate. L'obiettivo del workshop è quello di insegnare agli studenti come sfruttare le potenzialità di Internet senza incorrere in rischi connessi alla violazione della privacy, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all'adozione di comportamenti scorretti e pericolosi per sé e per gli altri. Secondo quanto rilevato, il 79% degli utenti di Internet manifesta qualche timore nell'uso del mezzo e il 95% di questi identifica i timori nella paura di un utilizzo improprio dei propri dati. Furte di identità, paura che qualcuno usi i dati per compiere frodi, timore che qualcuno acquisti online con il proprio denaro sono le preoccupazioni maggiori. Ed ora parliamo di amministrazione comunale di Biella che ha messo in campo il progetto Puliamo il Mondo. Tutti i particolari comunque ce li spiega l'assessore all'ambiente del comune, Marzio Oliveo. È stato presentato in conferenza stampa il progetto Puliamo il Mondo, progetto a cura dell'assessorato all'ambiente della città di Biella. Con noi l'assessore proprio all'ambiente Marzio Oliveo. Assessore, di cosa si tratta? In realtà si tratta di una manifestazione, di un appuntamento ormai che si tiene da oltre vent'anni e che è organizzato da Lega Ambiente. È una manifestazione che coinvolge i ragazzi, gli studenti delle superiori e che ogni anno vede interessata un'area della città che viene ripulita. Quest'anno sarà interessata dall'intervento una zona del villaggio La Marmora e il retrostante lo skate park. Tengo a precisare che l'organizzazione avviene da parte di Lega Ambiente con il patrocinio del Ministero della Salute, il MIUR, e per questo va ringraziato, ma non solo, va soprattutto ringraziato secondo me Lega Ambiente per l'opera quotidiana e preziosissima che fa in ordine alla tutela dell'ambiente e della natura. Ecco, assessore, esattamente le finalità di questo evento quali possono essere? Io direi che c'è una doppia chiave di lettura in questa manifestazione. Innanzitutto, va beh, sensibilizzazione per quanto riguarda i temi dell'ambiente e verso gli studenti. E poi comunque costituisce anche una risposta importante e maleducati alle persone ignoranti e assolutamente ezotiche che non si preoccupano minimamente e quotidianamente in sudici nella nostra città. È un bel esempio e speriamo che sia proficuo. Parliamo ora di sport, di boccia al Bocciodromo Comunale di Biella nuovo successo della Bellaria. La competizione, con selezioni in otto gironi dislocati sul territorio vercellese, biellese, novarese e del verbano Cuso-Ossola ha coinvolto 64 formazioni ed è approdata per le finali domenica al Bocciodromo Comunale di Biella. Brillante l'affermazione della coppia Giorgio, Bertotti e Gabriele. Bertotti nella gara intercomitariale. Di fronte a un folto e attento pubblico la coppia vercellese è infatti battuto nella finalissima per 13 a 10 la guerrita formazione biellese della Capannina. Ed ora parliamo di attualità. Appuntamento con Marilyn l'Anima tra le righe organizzato dall'Associazione Donne Nuove a 50 anni dalla morte non è stata mai così viva. Marilyn Monroe infatti è stata l'attrice più amata dagli uomini e più invidiata dalle donne. Ora è la bionda icona riprodotta su milioni di magliette, quadri, gadget di ogni tipo. Elton John le ha dedicato una canzone La tua candela si è spenta come una candela al vento che non sapeva a chi aggrapparsi quando incominciava a piovere. Attraverso lo studio della sua scrittura conosceremo l'altra Marilyn Monroe quella che non appariva sugli schermi quella senza il trucco che la trasformava. Una serata dunque per ricordare la donna intelligente e fragile che voleva essere un'attrice per dimostrare di essere viva e vera. L'appuntamento è per 4 ottobre alla sala delle colonne di via Ravetti a Biella. Bene, con questo è tutto io vi ricordo che i nostri notiziari e i nostri approfondimenti potete seguirli anche sul sito internet www.retebiella.tv Con questo è tutto io vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale la prima alle 19.15 auguro pertanto a tutti una buona e piacevole giornata. Grazie a tutti